Bene, allora fa tante di quelle cose che ho dovuto prendere un po' nota, ciao bellissimo sindaco, docente presso l'università cattolica, ha ricoperto incarichi dirigenziali in diversi istituti finanziari, quindi quando parla di economia sa quello che racconta, ci ha anche detto che uscire dall'incubo e per cui uscire dall'Europa e dall'euro è possibile, ha 31 domande, ha dato anche 31 risposte, cosa che sicuramente il nostro Presidente del Consiglio Renzi non fa, considera la vera sfida politica quella tra i due Matteo, tra quello originale e quello giusto che abbiamo questa sera e il tarocco fiorentino, quello dello stai sereno Enrico e ci ha accompagnato in tutta la campagna elettorale che ci ha portato poi all'ottimo risultato alle europee, io chiamerei sul palco Claudio Borghi. Penso che non ci si creda per altri che sono abituati a fare la politica dalla poltrona vedere che in mezzo alle feste abbiamo un popolo che viene qua per stare assieme e per parlare di cose importanti, per cui complimenti a voi perché sapete benissimo che nessuno degli altri partiti potrebbe fare una cosa del genere, perché se quelli del PD cominciassero stasera a dire facciamo una festa a qualche parte magari arriva tanta gente ma con in mano delle cose da tiragli. Quindi direi che veramente come la Lega non ce n'è e io devo semplicemente così dirvi due parole e due parole sono una domanda, una preghiera, vale a dire abbiate fiducia perché stiamo immaginando un futuro diverso, per immaginare un futuro diverso ci vogliono scelte radicali, quindi non stiamo pensando minimamente a cambiare un pochettino di aliquota, a sforare di un pochettino i parametri europei, di andare a battere i pugni sul tavolino che poi dopo magari ci concedono qualcosa, no queste le lasciamo fare ai servi, noi vogliamo invece ragionare da persone libere e purtroppo ci stiamo disabituando al concetto di essere persone libere, ci stiamo disabituando perché tutti ci fanno credere che non si può cambiare, che il mondo va così, che è tutto così, che in realtà ce lo meritiamo un po' perché siamo cattivi, perché siamo corrotti, perché siamo evasori, perché siamo lazzaroni, ma dico ma esiste secondo voi che magari un po' in giro per il mondo avete girato e anche chi non l'ha fatto magari si può fare un'idea guardando i propri vicini un popolo meno lazzarone del nostro ma qui a Bergamo, ma qui a Brescia, ma qui in Lombardia, ma per caso voi, la gente che conoscete è lazzarona è gente che se gli si dà da lavorare, lavora 43 ore al giorno, fa i miracoli è tutta gente che ha tirato in piedi questo paese perché qua questo paese era distrutto dopo la guerra e chi l'ha tirato su se non la vostra fatica? Era distrutto, c'era il debito, c'erano altre cose il debito come si ripaga? Il debito si ripaga lavorando e qua il lavoro non ha mai spaventato nessuno per cui noi come idea politica e come idea economica della Lega l'obiettivo è molto semplice fare in modo che le persone lavorino perché sapete benissimo che il miglior sindacato è avere domanda di lavoro se si cresce tutti anche i nostri stipendi valgono di più, se i nostri stipendi valgono di più perché in due, in tre vogliono il nostro lavoro e se lo contendono perché c'è crescita, perché c'è cose da fare allora tutti i problemi si risolvono, invece dentro questa palude dove ci siamo andati a cacciare c'è soltanto depressione, c'è soltanto sfiducia, c'è soltanto paura per il futuro c'è gente che non merita di avere paura del futuro io giravo a Milano, in centro a Milano dove in teoria non dovrebbe esserci paura di nulla per il futuro invece vedevo persone che con grande dignità ma giravano con la faccia spenta giravano con la faccia preoccupata, guardavano le vetrine col negozio vuoto e si vedeva l'angoscia, si vedeva la tristezza io un Natale così sinceramente non mi è mai capitato di vederlo c'è paura, c'è disperazione, noi non dobbiamo avere paura e disperazione perché abbiamo tutta la possibilità per crescere come e più degli americani che guarda caso invece di essere la crisi mondiale hanno detto che crescono del 5% nell'ultimo trimestre crescere del 5% nell'ultimo trimestre significa che la gente si strappa i lavoratori da una parte all'altra pagando di più, che le imprese devono aumentare che le imprese devono aggiungere un altro capannone per fare più soldi per riuscire a dare lavoro ora noi abbiamo la possibilità di farlo vi chiedo solo questo, abbiate fiducia perché il nostro unico obiettivo è questo si dovranno fare delle cose radicali ma mentre la sinistra congegna delle cose radicali per togliervi quel poco che vi è rimasto noi vogliamo creare delle cose radicali per darvi quello che vi è stato tolto perché è vent'anni che vi hanno tolto tutto vi hanno tolto la speranza, vi hanno tolto la dignità ed è una cosa che non potremo più tollerare quindi mi raccomando, seguiteci e abbiate pazienza perché magari bisognerà spiegare delle cose un po' complicate ma l'intento è solo quello mettere la gente in condizione di lavorare perché se non c'è lavoro non c'è dignità vi ringrazio